Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Falimento Banca Marche, la fondazione Carifano intraprende un'azione risarcitoria Fusione Pesaro-Mombaroccio, i sindaci delle due città presentano l'accordo per l'incorporazione Il 17 aprile i cittadini dovranno esprimersi con referendum consultivo Iniziati i lavori per le scogliere a Sassonia di Fano I massi proteggeranno residenti e operatori dall'erosione e dalle forti mareggiate Fra poco dopo il TG torna in diretta primo cittadino con il sindaco di Fano, Massimo Seri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, tutti i risparmiatori coinvolti nel fallimento di Banca Marche Potranno rivolgersi alla fondazione Cassa di Risparmio di Fano Che ha deciso di intraprendere un'azione risarcitoria per oltre 6 milioni di euro Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio di Lino Balestra Il prospetto informativo, sottoposto a coloro che hanno sottoscritto le azioni offerte In opzione in sede di aumento di capitale della vecchia Banca Marche Contiene informazioni false Sia in termini di solidità e salubrità dei bilanci Sia in termini di prospettive di redditività future per l'investimento fatto Con queste prerogative e con dati di fatto La fondazione Cassa di Risparmio ha dato mandato all'avvocato Roberto Pozzi di Milano Di intraprendere un giudizio risarcitorio per 6 milioni e 170 mila euro Nei confronti della nuova Banca Marche e della società di revisione PricewaterhouseCooperSPA Per aver indotto le fondazioni e i piccoli risparmiatori Ad intraprendere questo aumento di capitale Risultato poi inopportuno Nel 2012 è stato sottoscritto un aumento di capitale Questo aumento di capitale ha comportato per la nostra fondazione Un esborso di 6 milioni e 100 mila euro Questo aumento di capitale è stato fatto su un documento Sottoscritto da questa società di revisione Che ipotizzava una situazione Che affermava, che dichiarava una solidità di Banca Marche E quindi la necessità di fare un aumento di capitale Per rafforzarla, per renderla più produttiva Che avrebbe potuto dare rendimenti più alti Purtroppo questi bilanci, poi se sono questa documentazione Si è dimostrata poi falsa, errata E ha indotto le fondazioni e molti privati A fare sottoscritto un aumento di capitale Quando era certamente inopportuno E che estendiamo anche ai privati risparmiatori Che hanno sottoscritto l'aumento di capitale Questi privati risparmiatori Che residono nel nostro territorio Potranno usufruire della stessa azione legale Senza dover spendere nulla in questo momento Perché le spese iniziali verranno sostenute Totalmente dalla fondazione Una vera opportunità questa Quindi per quanti sono stati vittime di questo caso Di poter sperare di ottenere qualcosa Ritengo che un privato risparmiatore Che ha investito nell'aumento di capitale 5.000 euro Non può intraprendere un'azione legale autonoma Quindi si unisce a noi E poi tutti insieme L'avvocato Pozzi Si rappresenterà presso il Tribunale di Milano L'avvocato Pozzi Giunto appositamente da Milano Per illustrare i termini di quest'azione legale Si mostra fiducioso Sul suo buon esito Diciamo che elementi per poter sostenere Che il prospetto informativo Veicolasse delle informazioni non corrette Ci sono Sono anche autorevolmente suffragati questi elementi Evidentemente porteremo all'attenzione Di un Tribunale autorevole Come il Tribunale di Milano Una situazione Auspicando che il Tribunale Accordi la doverosa tutela Ai risparmiatori Alla fondazione E ai risparmiatori Che sono stati Ingannati Nel senso che Hanno evidentemente Confidato Nella bontà Della scelta di investimento Che veniva loro prospettata Quando in realtà Questa scelta di investimento Si è rivelata Evidentemente perniciosa Pregiudizievole per tutti E domenica 17 aprile I cittadini di Pesaro Di Monbaroccio Sono chiamati alle urne Per esprimersi Sulla fusione Per incorporazione Questa mattina I sindaci delle due città E quindi Matteo Ricci E Angelo Vichi Hanno presentato L'accordo politico Che in caso di fusione Prevede La piena autonomia Per Monbaroccio E la possibilità Di sbloccare 5 milioni Nella sala rossa Del comune di Pesaro Tra il sindaco Ricci E quello di Monbaroccio Angelo Vichi E' stato firmato Questo pomeriggio L'accordo Politico Programmatico Per la realizzazione Del progetto Di fusione Per incorporazione Del comune di Monbaroccio Nel comune di Pesaro Quello che in realtà Avverrà Tradotto in soldoni Al comune di Monbaroccio E a quello di Pesaro Se il 17 di aprile prossimo Passa il sì Naturalmente Tutto è vincolato Al volere dei cittadini In caso del no Naturalmente Tutto Tutto si ferma Come dice Il sindaco Di Pesaro Matteo Ricci I rapporti di forza Sono cambiati Sentiamo perché Sì Se prima Della fine dell'anno La convenienza Era divisa Al 50% Tra Pesaro E Monbaroccio Oggi la convenienza È al 90% Per Monbaroccio E come penso I cittadini Cominciano a sapere Pesaro Ha sbloccato 30 milioni di euro Di investimenti Quindi non ha bisogno Della fusione Per sbloccare Gli investimenti Mentre Monbaroccio Senza questa fusione Non farebbe mai 5 milioni di investimenti Che oggi abbiamo confermato Neanche nei prossimi 20 anni Dal punto di vista Del contributo Dello Stato Invece il danno È per tutti Abbiamo già perso 2 milioni e mezzo A causa di questo ricorso A causa di questo ricorso assurdo Se recupereremo Vai vincere Al sì Ne avremmo persi Solo 2 e mezzo Altrimenti ne avremmo persi 20 e mezzo Cioè il contributo Che lo Stato dà Per 10 anni A un comune come il nostro E tutti i soldi Che andrebbero Sui servizi sociali Sulle scuole Sulla cultura Cioè sulla parte corrente Del bilancio Noi ci crediamo molto Perché vogliamo comuni Più forti Più innovativi Che risparmiano risorse Che fanno le cose Nell'interesse dei cittadini Ed è una fusione Che garantisce Autonomia a Monbaroccio Perché Monbaroccio Rimane municipio Avrà potere decisionale Su ogni questione Di Monbaroccio Che quindi ha vincolo Diciamo Il parere vincolante Su ogni questione Di Monbaroccio E quindi ottimizza Tutti i vantaggi E il tempo stesso Garantisce un'autonomia decisionale Non ci sono altre strade Da percorrere Dice il sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi Se ci fossero state Le avremmo prese In considerazione Questa è l'unica strada Percorribile Per assicurare Al comune di Monbaroccio Ai monbaroccesi Servizi E supporto Adeguato Al rilancio Di una cittadina Così importante Sentiamo le sue parole I primi tre anni Daranno al nostro territorio Un contributo per investimenti Per 5 milioni di euro Pensabile prima Ma anche dopo Dal successivi anni E fino alla fine Del decimo anno Sempre che poi Non ci sia una ulteriore providenza Noi avremo Da gestire Oltre a quelle Che sono le spese Ordinarie Le gestioni ordinarie Del nostro territorio Avremo una cifra E anche questa È scritta qui Di 570 mila euro In più Rispetto al budget Ordinario Di quello Che è il nostro comune Con il quale potremmo dare Un incentivo ulteriore A tutti quelli Che sono i servizi Veramente potremmo diventare Grazie Come si dice Io dico sempre Si chiude una porta E si apre un portone Da una situazione Di crisi Come quella Che inevitabilmente Oggi vediamo che c'è Ne può uscire fuori Con questo atto Una situazione Tra l'altro Di una Ma io dico Utilissima Importantissima Che non avremmo Mai potuto pensare E adesso una notizia Di cronaca Perché i carabinieri Hanno arrestato Un operaio di Pianello Di Cagli Per maltrattamenti Verso la compagna L'uomo di 57 anni Era stato condannato A tre anni di carcere Perché nel 2007 Ubriaco Aveva aggredito Due carabinieri E nel 2009 Aveva ripetutamente Malmenato la moglie Da cui ormai è separato Stava scontando La condanna Nella sua abitazione Con affidamento In prova Ai servizi sociali Ma l'uomo Che si era ricostruito Una nuova vita Con una donna Più giovane Di 23 anni E un bambino Di due anni Avuto da lei C'è ricascato L'operaio è tornato A bere E a picchiare Anche la nuova compagna Che da prima Non lo ha denunciato Ma poi Dopo l'ultimo episodio Ha messo ai carabinieri Le violenze fisiche E verbali Subite Mediata la comunicazione Da parte dei militari Al tribunale Che ha sospeso L'affidamento Ai servizi sociali Ed è messo L'ordine di carcerazione E adesso Cambiamo argomento Dopo 30 anni Di attese Di richieste Sono partiti A Sassonia Sud I lavori Per le scogliere Anti-erosione Dalla giornata di ieri Chi passa nei pressi Di via Fratelli Zuccheri Vicino all'ex Pista dei Go-Kart Si sarà accorto Della nave Pontone Che sta operando Per depositare In mare I massi provenienti Da una nave cargo Ancorata Più a largo E che funge Da deposito Per poi poterli Ridistribuire Nelle zone interessate Da questo Secondo appalto Che riguarda Le scogliere Del nostro litorale Dopo la Gimarra Infatti E ora La volta Della Sassonia In questa fase Stiamo facendo Praticamente Lo scarico Dalla nave Blue Ship Attraverso La motonave Angelo B Del materiale Proveniente Dalle cave Che sono situate In Jugoslavia In questa fase Praticamente Stiamo scaricando Un carico Di 5.000 tonnellate Questa attività Si svolgerà Per i giorni Di oggi E domani Sono previsti Altri due carichi In questa fase Quindi per un complessivo Di circa 15.000 16.000 tonnellate Che ci permetteranno In un primo tempo Di sistemare Le tre scogliere Di via Fratelli Zuccheri Quindi quali sono Le zone interessate? Allora Abbiamo cominciato ieri Le zone interessate Sono Adesso davanti Via Fratelli Zuccheri Facciamo l'emersione Di tre setti Di scogliere sommerse Poi faremo Due nuove scogliere Davanti a Bagni Sergio E questo Fino alla fine di maggio Poi in autunno Ci sarà la ripresa Dei lavori Dopo la stagione balneare Emergiamo Quattro setti Di scogliere sommerse Davanti a Viale Ruggeri Quindi davanti a Viale Ruggeri È il lavoro Che faremo in autunno Tre milioni di euro L'importo di questo Lotto di lavori Ai quali si sommeranno Altri 900.000 euro Per le scogliere Che verranno realizzate Entro la fine dell'anno Davanti all'anfiteatro Rastat Ci ha confermato L'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi Inoltre il ribasso d'asta ottenuto Servirà per altri interventi Sempre a favore della costa Interventi attesi da tempo Da operatori commerciali E residenti Di una delle zone di Fano Più flagellate dal maltempo Questo conferimento Possiamo dire quindi Che servirà a mettere a riparo Viale Ruggeri E gli abitanti di Viale Zucchero Dallo scempio Che ogni anno si verifica Lo scopo del progetto È proprio quello Cioè quello di tutelare Le attività E le abitazioni Delle persone Che operano E abitano In via Fratelli Zucchero In via Le Ruggeri Quindi lo scopo proprio Del progetto E quello dell'amministrazione È quello di tutelare Le persone Che stanno in questa area Che spesso è stata Oggetto di numerosi danni A Cartoceto invece Proseguono incessanti Gli interventi di manutenzione Del territorio Lungo le strade comunali Sono iniziati inoltre I lavori di pulizia Delle cunette Che garantiranno Un regolare deflusso Delle acque piovane Nel nostro sito Occhioalanotizia.it Troverete l'elenco Delle strade interessate Dall'intervento La piscina Dini Salvalai A Sant'Orso di Fano Riaprirà lunedì 11 aprile Con il nuovo gestore Giovedì pomeriggio Verranno aperte Le offerte economiche Delle società Partecipanti Ultima parte Conclusiva Della procedura di gara Giovedì sera Quindi L'ufficio sport Del comune di Fano Avrà il nome Del nuovo gestore E poi procederà Con l'affidamento Bene Quindi vi terremo Aggiornati E questa era L'ultima notizia Del nostro telegiornale Questa sera Dopo una nuova puntata Di Guarda chi c'è Torna a Primo Cittadino All'appuntamento In diretta Con il sindaco di Fano Massimo Seri Potrete inviare Le vostre segnalazioni Al 338 49 68 250 Oppure Mandare una mail A redazione Chiocciola Occhio alla notizia Punto it A fra poco All'appuntamento All'appuntamento Grazie a tutti.